Rivitalizzare i centri storici di città e borghi attraverso la degustazione di cibi e bevandi di varie parti del mondo. È la finalità definita da Food and Drink che mette in rete territori di vari paesi per una reciproca valorizzazione. Sentiamo Silvia Barchesi. Un viaggio tra i gusti e i sapori del mondo, dall'Argentina al Messico, passando per Germania, Svezia, Grecia, Tunisia e tanti altri paesi. È un giro del mondo in 15 locali, tra bar, ristoranti e caffè. Quello che il 16 e il 17 giugno sbarca a Sassoferrato con Food and Drink, la due giorni di cene aperitivi internazionali lanciata da Confartigianato Imprese Ancona a Pesaro Urbino per rivitalizzare i centri storici e rilanciare le sue attività in un'ottica di rete. L'obiettivo è il rafforzamento del legame tra imprese e territorio. Continua l'impegno di Confartigianato con questa iniziativa nel creare sinergia tra imprenditori. È un bellissimo segnale che tante imprese si mettano insieme per promuovere il territorio. Questa è la missione di Confartigianato e su questo stiamo lavorando. 15 locali aderenti all'iniziativa inseriti nella mappa internazionale del gusto firmata Confartigianato. Ad ognuno il compito di calarsi nelle tradizioni di un paese del mondo, ricreando nelle atmosfere e i piatti tipici. Ogni ristoratore metterà ovviamente la sua capacità di inventiva per realizzare piatti dedicati a una particolare località. Quindi questo è interessante perché tutti i cittadini possono girare tra i vari locali e trovare delle specialità differenti di diverse parti del mondo. Grazie ad un itinerario enogastronomico a tappe, Sassoferrato si prepara così a diventare la capitale della cucina di tutto il mondo. Per gli esploratori del gusto, poi anche la possibilità di condividere la propria esperienza sui social. Basterà una foto con l'hashtag FooddrinkSassoferrato23 e quella con più like vincerà un aperitivo per due. Così il piccolo centro dell'entroterra punta a promuovere il territorio, grazie ad un format già sperimentato nel 2019 ma poi stoppato dal Covid. Ci permette di riprendere un discorso che abbiamo interrotto nel 2019, quindi rappresenta veramente se volete un punto di ripresa di un discorso che abbiamo lasciato in sospeso ma su cui noi come amministrazione, gli esercenti e il territorio crede veramente.